Come faccio l'interno? Non è facile seguirti? Come faccio l'interno? 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 Di te amare I only wish that I could hold this one down Mr. Persimmon, to your last peculiar world Gathered up his lovers and brought them more And said goodbye, nice try I have arrived at a certain point, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? My head on my head is how they start moving Let me in, let me in I've got tar on my feet And I can't see all the birds look down and laugh at me Ones are crawling out of my skin Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah e ci sono i maschini di lavoro ma di fatto non andremo subito all'ospedale appena ti vengono così comunque va bene però cosa fai? allora mi ero preoccupato quello è tutto fulminato perché non si segue neanche lo su aspetta che gli dico di andare dal mio avvocato vanno è mai data e entra ci sei andato giusto? eh alla vostra non ci vale sei al punto di partire spero che lo capisci più di quello non posso fare in queste situazioni che mi sto vivendo io adesso e poi credo che sia la migliore e quindi da un momento che ho visto che c'è l'incastro no? tanto così piuttosto l'incastro e allora Grazie. Grazie.